La partita è appena finita con l'inusuale per le ultime partite, scusa Andrea, vittoria dei padroni di casa, una bella partita spumeggiante, cominciamo con l'allenatore degli ospiti, direi per come si è vista non una grande partita difensiva per tutte e due le squadre, sicuramente una grande produzione offensiva, infatti il pubblico si è molto divertito in grande equilibrio per 30 minuti, poi in qualche maniera si è chiusa un pochino la vostra fase offensiva, credo di aver visto solo 6 punti nell'ultimo quarto che sono pesati, abbiamo fatto già. Coach, era la partita che ti aspettavi, come sono i dati tuoi? Intanto complimenti a Villa Santa perché ha toccato una partita di intensità e penso che abbiano meritato di vincere. Noi abbiamo subito molto la loro aggressività, la loro vivacità, chiamiamola così, ma subito dall'inizio, credo che la chiave siano stati i tanti rimbalzi offensivi concessi a loro e sicuramente la nostra scarsa lucidità e attacco soprattutto nell'ultimo quarto. Abbiamo avuto, è vero, una settimana molto travagliata noi, alla fine c'eravamo tutti in campo, però abbiamo avuto 3-4 giocatori che non si sono allenati per motivi fisici, ma questa non deve essere una scusa perché credo che loro abbiano meritato di vincere al di là di queste situazioni e sono stati più bravi di noi, più lucidi e sicuramente più aggressivi da questo punto di vista. Grazie coach, passiamo a Andrea, coach della squadra di casa, mi allaccio a quello che ha detto il coach avversario, la loro settimana difficile, devo dire per te stagione difficile perché credo che anche questa settimana componenti della presquadra, fortunatamente ci sono gli under, stasera credo che ne avessi addirittura 5, anche un under 16 convocato, fortunatamente ci sono gli under perché sennò 5 contro 5 è impossibile. A netto di questo sono molto contento, ringrazio il coach per i complimenti, sono molto contento dell'energia che ci abbiamo messo, per noi era una partita fondamentale perché noi come dicevo ai ragazzi, perdendo questa eravamo veramente, potevamo finire in un baratro e quindi abbiamo giocato secondo me per 30 minuti, una bella palla canestro in attacco, in difesa avevamo un pochino paura delle caratteristiche dei loro giocatori e ci mettevamo un po' po' che aggressività soprattutto sulla palla, poi dopo l'ultimo quarto, devo dire al trentesimo abbiamo visto che eravamo sopra di uno se non sbaglio e la partita era tutta da giocare un canestro all'ultimo secondo di Morse e per noi come ci siamo detti era un'occasione troppo ghiotta da non cogliere in casa e dopo la sconfitta il settimana scorsa a Quistello che ci ha tolto un po' il sonno diciamo e quindi io sono molto contento per tutti i ragazzi, per tutto il gruppo perché nonostante le sconfitte ci credono, si impegnano, lavorano in allenamento e veramente complimenti a tutti i ragazzi che hanno fatto, anche veramente anche ai 2006 che sono venuti a allenarsi, che per una società di paese come la nostra e abbiamo ragazzi di paese, è tanta roba per loro, insomma sono contento per tutti, per tutti perché ci credevano e sono meritato. Adesso ci si dimentica la vittoria che c'è tutto il giro di ritorno da fare, conversari molto forti, abbiamo tutte le partite subito belle tranquille con via d'arte. Comunque devo dire, vedermi di partite come quella di questa sera, a prescindere dal fatto che la vittoria, però effettivamente il pubblico si è rivertito, è stata una bella palacanestro, lo dico anche per gli ospiti che non saranno contenti per la sconfitta, ma per 30 minuti, 32 minuti, 33 minuti ovviamente non tantissima difesa, ma la fase offensiva è stata bella sia da una parte che dall'altra e questo tutto sommato è bello per chi guarda le partite. Grazie ad entrambi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!